eccoci qui amici di android blog finalmente al mare con HTC One e la custodia di Cellular Line la Voyager music. Noi adesso andremo a fare una prova in mare con voi. Come anticipato eccoci in mare per fare la prova della Voyager music di Cellular Line con HTC One. Facciamo una prima immersione eccoci fuori facciamo una seconda eccoci fuori come vedete il dispositivo è perfettamente funzionante questa custodia è davvero ottima e ve la consigliamo ciao a tutti facciamo una nuova immersione eccoci fuori facciamo una nuova eccoci fuori facciamo una terza e ultima e con questa vi saluto ciao a tutti ciao